buon pomeriggio amiche come va come state spero tutto bene prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista ciao a tutti amiche sì e viva gli sconti e viva la nostra amica angela grazie angela questo bacio è davvero grandissimo ed è tutto per te perché la nostra amica angela nei commenti ci ha prontamente segnalato che al tigotà al onel al tigotà al tigotà c'erano ci sono cosa al tigotà al tigotà va bene al tigotà ci sono in offertissima le palette di bella oggi ma solo le color no come si chiamano color fanatic in super mega offerta quelle da 15 euro e 90 quelle piccine da 8 e 90 amiche no quelle no passano a prezzo pieno in cassa quindi mi raccomando amiche accattatevele tutte perché ci sono un po di colorazioni sono un po rauca scusate quindi bravissima angela ti ringraziamo tantissimo e se avete altre informazioni prontamente amiche immediatamente appena venite a conoscenza di questa cosa importante che sono l'uscita di make up nei giornali in edicolo oppure l'attivazione di nuovi sconti al tigotà poi ho anche la etos vicino e posso andare ma ce l'ho a 40 minuti di macchina da caddis e quindi mi devo un po organizzare tipo chiedere il permesso al lavoro uscire prima organizzare i ragazzini da caddis non è così semplice e magari ci vado metto la benzina e non trovo l'articolo invece il tigotà ce l'ho proprio di fianco a casa quindi quando anche compro il pane poi metto freccia tac che vado al tigotà volando quindi quando sapete appunto sconti offerte al tigotà super valide atomiche come questa volta come ha fatto la nostra amica angela amiche se vi va ditemelo per favore nei commenti dei video tanto io sempre vi leggo tutte e oserei dire pure e c'era mancai altra cosa pura amiche ci mancherebbe altro io certamente sempre leggo i commenti e rispondo se magari ecco non sono in real time in tempo reale è perché o sto lavorando no al lavoro sto al lavoro sto lavorando oppure sto dormendo perché oppure pulendo tipo i pavimenti che è una roba ecco che ho proprio le mani sporche sono sotto la doccia se no io se non sto dormendo e sono sveglia non sono diciamo impegnata a lavorare al pc per il mio appunto lavoro principale che comunque mi dà da mangiare da vivere e ho queste comunque otto ore che non sono poche sono otto ore almeno al giorno di lavoro in cui ovviamente non posso si rispondere ai commenti perché non li vedo però quando sono magari in pausa pranzo quindi dopo circa 4 ore di lavoro riesco a rispondere oppure se mi capita che ho una pausa caffè che riesco a fare una pausa caffè quei cinque minuti mentre bevo il caffè io assolutamente li dedico a voi per leggere i commenti e soprattutto rispondervi dare il buongiorno e mi piace tantissimo vi dico la verità darvi il buongiorno se riesco la mattina perché poi in pausa pranzo mi dispiace sì io lo dico lo stesso buona giornata ma mi rendo conto che già ora di pranzo no quindi perdonatemi se sono appunto lenta però in settimana è così invece il sabato e la domenica cercherò diciamo di rispondervi e salutarvi già la mattina prestino appunto se non sto pulendo i pavimenti perché a volte ecco comunque come in tutte le case bisogna lavare i pavimenti i vetri fare delle cose che comunque ci impegnano per una due tre ore di fila purtroppo così i bagni e allora ci sta comunque grazie ancora 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 ad angela ma anche a tutte voi amiche mia perché siete in tante veramente che mi segnalate le uscite dei giornali in edicola col makeup e non solo anche skin care e siete tante che vi preoccupate anche di chiedermi soprattutto come sto di aiutarmi con tantissimi consigli makeup e skin care e voi non immaginate neanche lontanamente quanto io apprezzi questa cosa e spero un giorno di riuscire a dedicarvi la mia attenzione e il mio tempo anche diciamo fisicamente nel senso incontrarvi abbracciarvi tutte a una una e trascorrere del tempo anche insieme a voi sia come dice il marito l'alixine e anche l'alixini perché so che questo canale è seguito anche dai maschietti e quindi benvenga per tutti gli appassionati del makeup delle risate e anche magari appassionati di una tontolona come me che non capisce assolutamente niente di niente in generale ma le piace ridere scherzare e stare in compagnia no perché alla fine io non capisco un piccolo sacco di niente però mi piacciono i colori il makeup e prendo la vita ma sì così con leggerezza come viene ed è bello e la vita è un soffio amiche un attimo e bisogna proprio respirarlo viverlo secondo per secondo perché è prezioso ogni istante è prezioso come anche è stato veramente prezioso l'istante in cui io ho risparmiato un sacco di soldi perché l'ho pagata 5 euro e 90 e lo scontrino mannaggia amiche c'è la macchina nel sedile mi è venuto in mente adesso ma domani lo recupero perché domani recupero altri colori di palette perché mi hanno detto che me li fanno avere assolutamente domani e nei prossimi giorni perché ci sono altri colori quindi per domani amiche mi raccomando aspettatevi gli altri colori di color fanatic bella oggi questo è veramente bellissimo ma qua di fianco abbiamo un piccolo gnamo non malefico dolcissimo ed è il bellissimo opinionista ciao tesoro ho sentito che stavi arrivando volevo darti questo cosa oh grazie mi ha guardato il mio anellino d'argento guardate che carino l'avevo dimenticato sul tavolo della grazie della cucina è super carino guardate un brillocco ovviamente finto amiche mie l'ho preso mica cioè pizza e fichi l'ho preso in gioielleria e l'ho pagato 24 o 25 euro ti ricordi? si sui 20 dove vado io nella diciamo gioielleria vicino a casa ha questi questi gioiellini questi anellini che sono veramente bellissimi e secondo me amiche non ha mica niente da diciamo invidiare certo ok non ha la purezza la lucentezza del diamante però amiche non costa mica 5000 euro 25 cioè uno due tre quattro cinque 25 quindi io poi me lo tolgo lo uso in giro poi comunque io ho l'accortezza perché stavo diciamo iniziando a mettere sulla cena e poi sono salita però ho avuto l'accortezza comunque quando mi sono lavata le mani di toglierlo anche se costa 25 euro ed è d'argento io lo tolgo per lavarmi le mani perché non lo voglio rovinare come sapete io estrema cura sia degli oggetti anche se costano pochissimo e sia delle persone perché più delle persone soprattutto perché ci tengo che non si rovinino nel tempo no soprattutto non si stropiccino il cuore e l'anima quindi ci tengo alle persone ma anche agli oggettini anche se costano pochissimo perché per un anello 25 euro un piccolo prezzo e secondo me è carino comunque chiusa la parentesi dell'anellino che ci ha riportato l'opinionista che anche letteralmente già scappato io sono molto felice costava allora l'abbiamo già inquadrata non mi ricordo allora 15 euro e 90 ci fa vedere cosa c'è dentro ma non lo spoileriamo più di tanto vedete che è più piccola della scatola l'ho già tirata fuori però è grande come la palette che c'è disegnata infatti infatti sapete che io inizialmente tempo fa pensavo che le palette di bella oggi fossero grandi quanto la scatola invece sono piccine picciò esiste anche un formato più piccino da 8 euro e 90 che ovviamente oggi non mi sentivo di comprare perché erano a prezzo pieno anche perché queste a 5 euro e 90 rispetto ai 15 e 90 è un bellissimo sconto molto meno della metà quindi amiche mie se le volete correte neti gotà vicino a voi a prenotarle perché ve le possono anche ordinare e ve le fanno avere nei prossimi giorni mi ha detto che non è sicura se ci sono in tutto tre colori oppure quattro o cinque colori lo scopriremo nei prossimi giorni quindi mi raccomando seguiteci per scoprire quanti sono in realtà i colori di color fanatici adesso l'apriamo e la svociamo immediatamente non so se tenere sulla giacca avete visto che ho messo la giacca di brook di beautiful mi piace tantissimo questa giacca io penso che me la terrò anche per andare a dormire amiche ci vado a coliccare con questa non ho ricevuto nemmeno un complimento neanche uno neanche mezzo oggi e io aspetta nemmeno il marito amiche nemmeno il marito che lavora con me tutto il giorno niente neanche mezzo complimento per la giacca per i colleghi che mi stanno guardando che erano con me al lavoro oh fatemi un complimento alla giacchetta nuova no che so che a volte i colleghi guardano il video ma non sempre palesatevi con un like anche voi con un commento hashtag collega allora l'apriamo e vediamo quanto è carina ci sono tantissimi colori ma è bellissimo l'ho guardata prima io scusate ma è atomica allora come facciamo metto questo così non sparaflesciamo nessuno e soprattutto non inquadriamo la nostra dolcissima regista ma forse ci vuole una cartina un po più piatta eh sì perché sennò li nascondo i primi colori allora vediamo di così guardate con anche l'elegantezza del cuore sì secondo me è bellissima e poi c'è anche lo scomparto segreto si vede o è buia la ripresa fateci sempre sapere se la ripresa amiche fa schifo così miglioriamo nel tempo secondo me sono super carini scusate per le unghie che fanno schifo sono tutte sbecottate oggi e devo assolutamente smaltar me ne fanno schifo letteralmente me lo dico da sola allora oh no si è chiusa come dice l'opinionista oh no popatrolla ah c'è il blocco se tirate fuori e fate lo scatto c'è il blocco io devo dire che è carina quanti colori sono due quattro sei otto dieci dodici quattordici sedici ombretti più un blush e un illuminante cioè bello 16 ombretti what 16 e quanti grammi per cui di quanto i grammi un chilo e mezzo no 21 virgola 94 grammi ma neanche poco mica mica poco eh perché questi poi sono grandi 5 euro e 90 costava 15 e 90 sì ma tu hai pagato 5 euro sì sì allora sicuramente amiche ne avremo almeno tre e quindi abbiamo risparmiato sicuramente 30 euro se ne troviamo 5 risparmiamo 50 euro circa quindi di più di 50 grazie io devo un super mega caffè ma anche un abbraccio grandissimo anche più di un caffè alla nostra amica angela eh sì grazie angela non finirò mai di dirlo oggi li fischiano le orecchie questo è il colore che mi piace di più aspettative altissime questo è un po zia carlotta sì e per il resto speriamo bene questo è bellissimo eh sì certo non so se togliermi la giacca mi sa che me la devo togliere perché tutto 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 mi sporco la giacca ma e deus duol la ramic sapete cosa vuol dire che è bianca e panna cioè che da lassù non lo vogliano che non lo dall'altissimo non voglia che mi sporco la giacchetta ok la butto in lavatrice ma se non la macchio sono più contenta la lavo lo stesso senza macchiarla come faccio? allora sto pensando scusate questo su e giù di inquadratura mi sa che sono senza spugnette no non è vero ne ho qua allora aspettate che prendo immediatamente una spugnetta questa è troppo grande però ce la possiamo fare siamo casualmente con tutte caduta vabbè ciao caduta una mini beauty blender casualmente le ho messe tutte a lavare in lavatrice i dischetti quelli appunto lavabili in lavatrice quindi usiamo questi che funge tipo una sorta di dischetto gigantesco fatto così che non è una mascherina per dormire amiche ma è un pannetto struccante super morbido quindi vado? vai sono emozionata l'acqua micellare per pulire il dito ce l'abbiamo ok speriamo ma saranno belli come sempre allora questo è un begiolino dorato sabbia un dorato si bello ebbè cosa stiamo parlando dito quasi pulito lo puliamo qua perfetto quindi possiamo riusarlo quale? vado in così? sì sì il tuo preferito infatti speriamo che sia bello che non faccia cagli bello 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 chiaro molto chiaro molto chiaro non è brutto non è brutto è un po' color zombie magari sugli occhi con il bianco no con il bianco con il primer col primer sarà bellissimo o almeno spero questo che è un po' Charlotte Tilbury ha un finish molto metallico secondo me vero? un po' Charlotte Tilbury amiche anche la nonna quando li ha bello vero? la nonna quando li ha visti ha detto che è bella che la vuole pure lei questa palette per 5 euro non hai sentito? no non è se non c'eri ti eri distratta è bello anche questo quindi se l'ha detto se non nix approved è tanta roba questo è beige il correttore non mi non c'è qua ok non mi dice nulla scrive anche poco scrive niente questi li chiamavano una volta colori di transizione adesso li chiamano boh non lo so questo anche è bello è un po' un salmone scuro sì aspettate che ne metto ancora ne carico un pochettino perché carino sì dai bello mi piace mi piace pulire il dito via questo allora questo dito non mi fido a reusarlo voglio il dito pulito per questo avrà caricato sì uh che bello vediamo bello no questo è un rosa fantastico questo è un rosa Charlotte Tilbury sì questo questo piace a tutti bellissimo questo è un must have un evergreen un evergreen a me che l'avete capito quante parole di inglese sto imparando c'è io che mi spacco must have evergreen mamma mia le para e noi ce lo rizzacchiamo un'altra carrettata io ne metto a camioncino non poco poco sbiadittino sbiadittino l'unicorno sbiaditto non mi dice niente questo questo sarà di quelli che si crepano tutti è morbido che bello tutto si è attaccato vabbè ma con questo cosa devo fare barbie discoteca sì barbie discoteca vado questo è un marrone più scuro bello sai che carino neanche troppo scuro infatti quasi quasi ci voleva più scuro in questa palette che sono tutti chiari allora questo dito pulito questo si si mischierà si incasinerà tutto come si deve fare qua così vediamo niente tra l'altro non si vede che cos'è aspettate questo colare di cane che fugge avete presente il colare il cane quando fugge che è marrone mergi no non ho capito non si capisce allora inquadrami un attimo allora dobbiamo spiegare questa cosa il cane che fugge lo sappiamo tutti noi in Italia che cos'è prendi un cane cagnolino un cagnolino no facciamo finta questo è invece una beauty blender che ha subito un incidente perché vedete che è tutta vecchia allora questo è il cagnolino che chiameremo fido per comodità ok fido fido prende da una parte diciamo del campo fiorito e parte così pronti 3 2 1 ok il colore di fido non si vede si intravede così una scia di colori indefinita questo è per chi non lo sapesse in Italia e anche in Sardegna colori dei gai vuendi tradotto colore di cane che scappa che fugge perché tu fai così e non lo vedi ok o se lo vedi è un colore che è indefinito bravissima che è indefinito ora che ho messo un po' più a fuoco secondo me è un grigio nemmeno tanto brutto se posso dire non è che mi dice niente però ne ho visti anche più brutti questo è un dorato un dorato freddo bellissimo un dorato canarino un dorato canarino dice la regista direi questo invece oro 24 carattere bellissimo cioè quello è veramente spacca proprio questo non mi dice nulla a me in matta amiche non mi dicono niente boh non è brutto è carino non mi dice niente questo aspettative alte e anche molto è morbidissimo che colore è marroncino o verdolino non lo so non è brutto non è brutto posso dire che non è brutto oggi ho le braccia screpolate scusate non mi succede mai a me proprio perché sto bevendo meno dovevo bere meno adesso sto bevendo troppo poco non lo so allora un dito pulito preferisco così questo lo stesso c'ha nella schiena questo colore le mie aspettative che sono tante vediamo nulla non scrive il nulla cosmico non ci credo vediamo ora qua no non si vede nulla poco 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 dice la regge poco 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 e nulla poco e nulla vediamo questo che non mi dice niente gli ultimi due chiari chiari potevano metterne due un po' più scuri niente non mi dice nulla vediamo l'ultimo puliamo il dito super polveroso perfetto anche no gesso ok ah e mancano questi eh sì allora questo dito che è pulito c'è tu che non cerchi di non spiegare sulla scritta sì lo sanno ormai le amiche io odio togliere le scritte ma prima o poi succede eh bello è bello è quello di blush bello sì l'illuminante secondo me è carino come ombretto è molto charlotte molto zia carlotta vediamo bello aspettate che carico vediamo pronti 3 2 1 magia eeeh questo dovevo metterlo come ombretto no no va bene è grande noi lo usiamo cosa ce ne frega lo usiamo come ombretto è bello questo è mio preferito vero questo è bello ma sai che questo è molto simile a questo è mai diverso però è più bello e questo qual'era questo qua sì bello bello no non ce ne frega niente lo usiamo come ombretto si crepa un po' però si crepa ci vuole un chilo di primer ma è uno quello come dovrebbe metterselo come illuminante non è troppo scuro ma infatti ma sarà per illuminare gli occhi qua su ma neanche come ombretto come illuminante ne metti un pelo comunque scuro come illuminante a me che ve lo dico bocciato già così bocciato potreste usarlo cioè una così una tocciata qua di blush e una tocciata di illuminante e fai il blush luminoso e fai il blush luminoso ecco che adesso tutti blush luminoso basta mettere un po' di illuminante un po' di blush però non dite a nessuno che è un segreto dei brand dei brand pensano che noi non lo sappiamo allora quindi io direi che complessivamente è carina complessivamente mi ha spaccato per 5 euro per 15,90 anche perché ha tanti 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 colori e per me che amo provare 800 milioni di varianti di colori è molto molto bella però per 5,90 non c'è competizione questa ha vinto tutto è proprio tipo la palette più completa e carina che si possa immaginare per soli 5 euro e non posso non schiacciargli il tasto devo schiacciargli il tasto amiche il tasto sapete che per chi è nuova del canale che magari non ha mai visto questi sono dei tasti per cani che ci si augura che anche l'alix li sappia utilizzare ho registrato ovviamente la mia voce quando una roba è molto molto carina come oggi schiacciamo il tastone rosa se invece non ci piace ci sono altri colori il viola che ci dice ugorru il giallo aici aici così così e invece il celestino che adoro e quindi amiche oggi assolutamente wow merabelli jeddu colore preferito tra quelli questo ok questo ombretto è veramente tanta roba a mo' di ombretto di charlotte ilbury bello bello bellissimo molto bello molto carino perché poi abbiamo anche dei marroncini che secondo me questo qua potrebbe essere carino per fare proprio le estremità tipo charlotte i colori che mette lei nelle palette molto molto carina potremmo provare un giorno a fare anche le challenge tanto amiche va bene per me da una parte charlotte e dall'altra parte facciamo che utilizziamo un colore molto molto simile di bella oggi così poi la sera vediamo anche il colore la tenuta se si è sbiadito durante il giorno perché se si sbiadisce su tutti e due gli occhi non ci accorgiamo però invece se si sbiadisce diciamo più su uno rispetto all'altro allora ci si accorge un po' di più che ne dici per le challenge carina si ci sto e lo possiamo fare con diversi brand anche si può sfidare non lo so bella oggi contro wet and wild revolution contro bella oggi oppure revolution contro pupa possiamo fare un po' di sfide catrice sfide make up per vedere chi ha i colori simili ma soprattutto ci interessa identificare chi ha dei colori simili a charlotte ilbury perché costa tanto trovare dei colori simili da utilizzare abbastanza identici a quelli che ci sono nelle palette di charlotte ilbury io adesso amiche vado a struccarmi il braccio a to e mettere la crema perché mi sento la pelle tutto screpolato sulle braccia ma non mi succede assolutamente mai strano non è assolutamente da me questa è un'anomalia anomalia se siete arrivate fino a qua a guardare il video mi raccomando scrivete la parola segretta di oggi la parola segretta di oggi è anomalia 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 amiche perché questo sconto così grande così importante più del 50% cosa sarà all'80 al 70 da 15 a 90 quindi 70 sarà 75 forse vabbè tra i 75 e i 80 dai facciamo molto molto facciamo che sia il 75 e secondo me è quasi un'anomalia quindi mi raccomando la parola segretta di oggi è anomalia e l'immoji segretta di oggi potrebbe essere un cuoricino arancione visto che la prima palette di fanatic color è arancione quella che abbiamo unboxato noi assieme poi vedremo i prossimi giorni che colori saranno le prossime palette che compreremo sempre 5,90 euro perché amiche domani vado a ritirarla vediamo che colore mi propongono super contenta io veramente non me l'aspettavo non si poteva ovviamente unboxare qualcos'altro oggi perché bisognava dire assolutamente che c'è in ballo questa offerta e se c'è un'offerta in ballo cosa facciamo noi l'alixine balliamo no amiche eh sì balliamo e corriamo a comprarle fatemi sapere nei commenti se avevate già cioè se eravate non se avevate se eravate già a conoscenza di questa super mega offerta in corso al Tigota al Tigota stesso comunque io amiche ho spaccato oggi le commesse perché nel senso si sono spaccate quando gli ho detto proprio facendogli vedere il messaggio mi ha detto guarda se no sembrava una pazza una mia amica mi ha detto che la palette fanatic color è in offerta e passa 5,90 invece che 15,90 le ho proprio detto così e le ho fatto vedere il messaggio e mi fanno eh no ma noi inizialmente eh no ma qua sono qua nell'espositore di bella oggi ci abbiamo queste ma non mi sembra no no ma io ho detto secondo me fanatic perché adesso non ce l'avevo in mente preciso com'era il pack ma gli ho detto secondo me sono palette non ombrettini piccoli no perché guardava lì l'espositore le palette di là ma non è niente ho detto che si chiama fanatic possiamo vedere e mi hanno detto forse sì allora mi hanno accompagnato sono andata a vedere e abbiamo individuato appunto questa palette che si chiama fanatic e mi hanno detto però non c'è scritto non c'è il bollino dello sconto quindi boh e ha detto possiamo sparare in cassa così capiamo eh ma noi non c'è mi hanno detto non era ancora arrivata comunicazione per lo sconto quindi boh forse no ma spariamo lo stesso con il alla cassa per vedere il prezzo quanto passa diciamo a computer centrale e sì passava 5 euro e 90 e quindi contenta e loro mi hanno detto ma dai lo sapevi prima tu di noi eh sì gli ho detto perché me l'ha detto una mia amica e quindi ero sicura al 100% e quindi ho fatto questa bella bellissima 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 figura che sapevo prima di loro le loro offerte del negozio incredibile sì e quindi super contenta oggi proprio e mi sono spaccata io dalla contentazione proprio tipo non dico tipo con l'adrenalina non sono riuscita così sì ma proprio soddisfatta di questo scontro enorme proprio così sì ce l'ho fatta tipo missione completata sì la queen dello sconto contentissima contentissima quindi amiche mie fatemi sapere nei commenti tutto quello che volete quello che abbiamo detto fino adesso inerenti a oppla è volata via alle palette di bella oggi se l'avete presa se andrete a cercarle al tigotà in super mega offerta e soprattutto fatemi sapere se i colori di questa palette arancione vi sono piaciuti oppure no e se se lo vale oppla che oggi mi casca tutto se 5 euro e 90 se lo vale secondo me sì stavo cercando se ha un nome però no color fanatic e il numero c'è 0013 quindi è 003 il numero capiremo quanti numeri arriveranno sono super emozionata non vedo l'ora tu vuoi aggiungere qualcosa? no no abbiamo detto tutto allora amiche mie mi raccomando parola segreta emoji segreta scrivete tutto 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 nei commentini anche fatemi sapere come state e se vi va schiacciate un like che se non ce l'abbiamo fatta negli altri video l'obiettivo per questo ma anche per i prossimi video è raggiungere mille like per sbloccare la presenza del marito qua nel canale insieme a me seduto qua di fianco che registrerà insieme a me chissà se ce la faremo quindi da impegnatevi tutte quante a cliccare like a far cliccare like alle amiche e agli amici così da sbloccare il livello a questo punto livello marito sul canale lallix iscrivetevi mi raccomando al canale perché è importantissima l'iscrizione e come dico sempre io l'iscrizione amiche mie è gratuita e c'era mancai a trago savoro io come sempre vi mando un bacio grande 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 e ci vediamo nel prossimo video ciao amiche buona serata fate le brave